e voilà sono arrivati i bomboloni ragazzi vai come di consueto come descritto quando la serata dei singoli è finita quando si è fatto il bagno di mezzanotte quando non c'è più niente da fare da ballare da spremere eccetera arrivano i bomboloni ragazzi vai ah non gli hai fatti tagliare a mezzo vabbè dobbiamo riparire un coltello c'è 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 bomboloni con lo gnam ragazzi ecco qua benissimo bomboloni facendo tre foto cerco un coltello qualche tovagliolo che profumo ragazzi che profumo vai siamo in diretta siamo in diretta dai uno bomboloni vai grande trombetta sei emozionato davanti i bomboloni vai vai taglia 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 taglio io si si la vuole da femmina vai grande gnam vai perfetto tre tre sei quanti siamo non più di sedici no vero no no ma quelle tutte a jessica manco domani non domani ecco qua lo sgnam è d'obbligo faccio vedere come sgnammi ecco qua lo sgnam ecco la jenny eccola qui che sgnamma sgnamma vai sì sì vai ecco qui la nostra tagliatrice vedete bicolore ha un bel vestito bicolore tutta tatuata tutte le istruzioni per l'uso vai bomboloni trombetta vai 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 ecco qua ecco qua vai vai ecco qua grazie 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 grazie